Francesca e Luisa nel negozio Lettere della Casana e ai Macelli di Sozziglia un pacchettino lo fanno per tutti, insomma per le persone che spendono cifre considerevoli ma anche per coloro che acquistano solo un piccolo gadget ci insegnano oggi come rendere originale un pacco prima hanno ritagliato un cuore, si può ritagliare anche un albero da una carta colorata, in questo caso è a righe bianche e rosse e la si applica con un pezzettino di scotch sul pacchetto la carta del pacchetto è di quelle più tradizionali da pacchi e così nasce il contrasto tra il vezzoso cuoricino e la carta marrone chiaro si lega poi tutto con una corda, una canapa molto molto grezza e si applica un fiocchetto rosso ed ecco fatto in pochissimi minuti un pacchetto veramente originale grazie a tutti grazie a tutti